il canadese ma cosa sta facendo in tutti questi anni di formula 1 non ho mai visto niente del genere la numero 1 della Williams ma cosa pensa di fare sta forse cercando di provocare un incidente ecco una Williams oh che botta è andato contro il Garreia ha picchiato un colpo terribile appena colpito Frenzen è il canadese la numero 1 della Williams non riesco a crederci sta veramente girando in senso contrario alla pista e si sono presi laggiù vero Massimo? hai ragione ha colpito il canadese